Alla fine degli anni dieci cominciano ad affermarsi i servizi di streaming, un po' come la panacea per la pirateria online. Ed effettivamente la pirateria comincia a essere sempre più difficile a fronte del servizio di streaming a pagamento per un abbonamento irrisorio e avere comunque un ragguardevole numero di contenuti che piacciono, ecco. E questa cosa all'inizio sembrava una roba potentissima, incredibile, enorme, perché, oh mio Dio, così in un servizio di streaming tutti possono arrivare alla tua musica anche se hai pochissimi ascolti e quindi uniamo la potenza del web ai piccoli artisti così che non debba esserci lo scout che ti trova nel pub ma può essere il tuo stesso fans a trovarti. Ok, questa cosa da una parte è vera, dall'altra no, perché certo tu non devi più andare in giro col cd e sperare che quando suoni dal vivo qualcuno ti trovi e tu gli hai il cd o che poi fai un contratto con una major che ti spinge e arrivi su. Però, analogamente, arrivi a dire sul tuo Instagram Raga, ho il mio Spotify, guardatelo, spingetelo, così arrivo ai mille ascolti. Perché sì, se non fai mille ascolti non ottieni le royalties. Quindi non è che cambi molto rispetto a prima per farsi conoscere, sei già famoso, vai bene. Se non sei famoso devi spingerti finché non arrivi alla tua piccola fanbase e sperare che eventualmente qualcuno ti spinga anche nei circuiti oltre internet perché comunque sentendo vari artisti mi sembra di capire che si guadagna di più dai live che dagli stream o anche dai cd venduti. E questa cosa anche alcuni big se ne stanno rendendo conto. Secondo James Blake, i servizi di streaming hanno promosso l'idea per cui la musica sarebbe gratuita e lui dice che bisogna difendere gli artisti da quelle malvagie entità piattaforme di streaming. Cita anche TikTok perché comunque di recente ha tirato su anche la sua piattaforma di streaming musicale ma comunque li accomuna tutti dicendo che sono notori per non pagare i musicisti quanto sarebbe etico fare. Ed ecco quindi che proprio James Blake introduce la piattaforma Vault FM. Praticamente il Patreon, l'only fans degli artisti dove c'è la comunicazione diretta con gli artisti, il chat, i contenuti esclusivi. Cioè molto semplicemente per spingere questa cosa Blake tipo ci mette anche delle sue tracce inedite che stanno per uscire nel nuovo album. Tutto questo per far capire quanto lui ci tenga a questa roba qua. Occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Perché la raccia sarebbe che in questo modo se tu hai la tua entrata fissa esterna dalle royalties non devi pregare in ginocchio per gli ascolti, non devi sperare che ti vada bene l'ultimo album, farne mille mila ma diciamo essere un po' più libero nella creazione di contenuti. Effettivamente ragazzi, vista così, questo può sembrare un modello alternativo da un punto di vista remunerativo per gli artisti. E non è una cosa così nuova, nel senso YouTube non paga niente e quindi c'hai un Breaking Italy, c'hai un Giopizzi, c'hai un Parabellum, c'è un... anch'io, anche il mio TP serve ad assolvere a questo compito. La piattaforma su cui sto non mi paga abbastanza funzionalmente al tempo che dedico e quindi ho il mio ingresso di soldi laterale che mi serve per stare in piedi e non morire di stenti, no? In questo modo se l'artista vuole far arrivare una sua canzone ai suoi seguaci non ha più bisogno dell'intermediario casa discografica ma può farlo tutto da solo, da sé, in casa. Ho citato OnlyFans e non Patreon o altre cose perché OnlyFans ha principalmente un solo stream non hai vari livelli di abbonamento da gestire ne hai principalmente uno e tu poi sei libero di dare più o meno soldi. La necessità di un cambio di passo è evidenziata non solo da Blake ma è un'idea condivisa da vari artisti inclusi alcuni nomi noti come Kanye West che vabbè, lo so, pessimo esempio ma tra i suoi delivi contro le case discografiche che non gli farebbero guadagnare abbastanza soldi dai suoi brani cosa tra l'altro non vera evidenzia questa cosa qua ma non su lui, eh? C'è anche Trent Reznor quasi 60 anni Nine Inch Nails mi dice niente? Tutti in un modo o nell'altro stanno portando avanti l'istanza che sia necessario una riforma nel modo in cui gli artisti vengono compensati per il loro lavoro Ora, per farvi capire il disagio non analizzerò tutte le piattaforme di streaming come Ramon erano gli artisti lo faccio con quella che comunque si è sempre posta a livello proprio di posizionamento nei confronti delle persone come quella più vicina agli artisti che si impegna per contrastare i bot automatici che si impegna per pagare le persone giù Spotify che però è un ginepraio cioè questa cosa qua è veramente pensate che nel 2023 Spotify ha annunciato il pagamento di 9 miliardi di dollari solo in diritti d'autore e dal suo punto di vista questo era un aumento significativo nelle somme versate rispetto agli anni precedenti però comunque non è abbastanza Sì, ok, Spotify vuole essere più trasparente e quindi deve dire che sono aumentati i soldi che ha dato in diritti d'autore però è anche cresciuto il numero di artisti che generano entrate sostanziali nella piattaforma tanto per farvi un esempio e citare su qualche numero 1.250 artisti hanno guadagnato oltre un milione di dollari ciascuno in diritti d'autore solo nel 2023 e 11.000 circa hanno generato oltre 100.000 dollari ma comunque si parla di personalità già note e in tutto questo Spotify sta cercando di modernizzare il sistema di pagamento delle royalties è notizia di qualche settimana fa che si è cambiato comunque qualcosa relativamente al modo di conteggiare gli stream al modo di quantificare i soldi che possono arrivare al contrasto del stream farm delle robe illegali Spotify conta di far arrivare complessivamente si parla un altro miliardo di dollari agli artisti emergenti e parallelamente cerca di contrastare lo streaming artificiale tutto questo distribuendo meglio i pagamenti ai giovani piccoli artisti però è un casino devastante perché comunque ci sono le streaming farm e quelle sono difficili da capire da un punto di vista algoritmico le streaming farm sarebbero quei posti dove hai tipo 7-8 telefoni se vabbò 70-80 telefoni dispositivi di vario tipo che riproducono in loop la canzone e così da pompare gli streaming e quindi Spotify si dice questi non sono ascolti veri sono roba artificiale come se ne accorge attraverso il numero di ascolti in loop e anche molto banalmente se tu hai Spotify craccato oppure no comunque in tutto questo insieme di misure ce ne sono anche di molto più controverse tipo ad esempio da quest'anno se nell'anno precedente non hai fatto almeno 1000 ascolti allora non ti paghiamo le royalties allo stesso modo se scopriamo te artista utilizzare dei sistemi artificiosi per pomparti gli stream ti penalizziamo a livello algoritmico la tua canzone o tu artista stesso oppure ti diamo una bella multina per una penale per queste cose qui cioè la dando poi alla casa discografica vedrà lei poi come rivalersi sull'artista però tant'è pensate che ci sono norme che tipo sapete che ci sono quei servizi che tu gli dai dei soldi e loro ti mettono in delle playlist specifiche create da bot automatici che fanno questa cosa qua pare che sia una cosa che vogliono evitare e la loro politica sia una playlist la deve fare o Spotify o gli esseri umani mica i bot però non so se vi è chiaro mille stream perché ti paghino i diritti d'autore se no niente a fronte di tutto questo c'è comunque chi ritiene che privilegiare i brani con oltre mille stream favorisca una distribuzione equa dei guadagni assicurando che gli artisti più ascoltati siano compensati meglio ma dall'altra parte questa misura può avvantaggiare gli stessi artisti consolidati già nel immaginario collettivo a discapito di quegli emergenti che faticano a raggiungere tale soglia quindi questo sistema non è tanto equo perché alla fine si trova a privilegiare proprio perché i soldi sono limitati chi è già famoso cioè io quando ascolto i Resina un gruppo italiano emo punk non sono sicuro che loro arrivino le royalties analogamente io non posso sperare che l'artista che rende in musica delle poesie di poetry slam possa arrivare oltre i mille stream perché è una cosa molto di nicchia e mi dispiace che quindi la monosportiva tra l'altro due band due artisti che vi consiglio e non ho affatto usato questa puntata per consigliarveli assolutamente no mi sono perso cos'è che volevo dire ah sì io sono molto dispiaciuto quando la monosportiva non riceva neanche i soldi dalle royalties perché 0,03 dollari a stream non so se l'avevo detto forse l'ho dato per scontato ma neanche un centesimo no se ti va bene 5 millesimi a stream che vuol dire che se tu hai mille stream hai 5 dollari di royalty sacco di soldi ed è in questo sistema di incertezza che vi ho appena accennato di volte che quindi cerca di affrontare tutte queste problematiche con l'approccio innovativo degli abbonamenti e delle cose promuovendo il cambiamento radicale nel modo in cui la musica viene prodotta distribuita ma anche consumata ponendosi come focus particolare gli artisti e gli artisti emergenti davvero se ci fosse il volta FM di monosportiva galli dal pan di resina io subito domani tutti i miei prendete tutti i miei soldi in realtà no perché poi non le faccio mangiare vabbè sicuro qualche monetina la tirerei fuori dal mio portafoglio ed è in questo contesto che Blake posiziona Volta FM certo riconosce che il processo di cambiamento richiederà tempo ed edizione ma comunque nelle varie interviste che ha rilasciato sui vari articoli che ne parlano risulta sempre come un ottimista perché la vede come necessità di riformulare il settore evidenziando proprio la criticità nel modello di consumo musicale basato su un abbonamento a prezzo fisso per cui non è sostenibile per valorizzare adeguatamente il lavoro degli artisti la cosa che comunque mi fa un po' storcere il naso in tutto questo è che ora il mondo dell'intrattenimento sta cambiando tutti hanno tutti i loro servizi di streaming e l'abbonamento cumulativo ci siamo accorti anche nelle serie tv che non è più sostenibile e quindi il prezzo inevitabilmente aumenterà e introdurre anche questa cosa dei musicisti cosa ci porterà riuscirà a funzionare arginerà il problema farà in modo che chi vuole vivere di musica possa vivere di musica oppure come prima chi lo dovrà fare come secondo lavoro perché non riesce a viverci e solo in pochissimi riusciranno a fare miliardi su miliardi in questo sistema capitalista come dicevo all'inizio questa cosa nasce per contrastare la pirateria ma noi siamo già a conoscenza di esclusive degli abbonati di un certo servizio che vengono pubblicati gratuitamente quindi poi tutta l'esclusività potrebbe andare a perdersi rimane comunque la questione che l'intrattenimento si sta spostando su un modello di mecenatismo virtuale del tuo artista preferito che si parli di youtuber e a questo punto che si parli di musicista perché io lo so che se Bruno smettesse di fare occhi al mondo e facesse un video al mese solo su youtube non sugli altri piattaforme di podcast di narrativa di un film muto ci sarebbe qualcuno che comunque proprio perché Bruno sono io mi conosce e sa la mia visione del mondo mi dà comunque i soldi in tp pur abbandonando il concetto di occhio al mondo perché sei lì per la persona dietro il prodotto non tanto per il prodotto quindi stiamo a vedere diamogli del tempo questo volta fm perché se permette agli artisti di essere più liberi e di scardinarsi dalle dinamiche di mercato quel tanto che basta per renderli un po' meno schiavi di fare sempre sempre musica andare sempre sempre nei palazzetti e poi vedere i maneskin che si sciolgono artisti giovanissimi di quasi 18 anni che sono in burnout perché hanno scritto troppo tutto perché sono schiavi di un sistema che li spreme perché ha bisogno di soldi e loro anche hanno bisogno di soldi quindi è un mutuo aiuto te la vendono così poi in realtà mi pare di capire che non lo sia no ok forse sto entrando nel ginepraio dei musicisti di oggi famosi grazie al web non hanno la gavetta dei piccoli locali quindi già i palazzetti gli mettono ansia perché non sono la persona giusta per parlarne proprio io non me la sento io mi fermo qui e mi chiedo chissà e lo chiedo a voi chissà e se siete musicisti se vi occupate di musica per lavoro per hobby o comunque conoscete qualche dinamica qualche cosa fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti oppure nel gruppo telegram che ve ne sono estremamente grato perché comunque da usufruitore di spotify più di 12 ore al giorno questo è un tema che ultimamente mi sta parecchio dando da pensare quindi io vi aspetto e mentre scrivete il vostro commento indignato su quanto cioè alla fine spotify è comodo se dovesse pagare tutti gli artisti dovrebbe costare 40 euro io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata informatica mondo del web questo è tanto altro su occhio al mondo l'occhio attento a quello che ci succede intorno